Il neo ministro dell'interno Matteo Piantedosi è arrivato in Campidoglio poco dopo mezzogiorno per incontrare il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Il primo cittadino ha accolto l'ex prefetto di Roma ai piedi della scalinata dell'ingresso di Sisto IV sotto la lupa insieme agli assessori Capitolini Monica Lucarelli e Claudia Fratelli. Poi il primo cittadino e il numero uno del Viminale si sono intrattenuti in un colloquio privato.